Il conto alla rovescia è finito. Stasera si alza il sipario sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Al Teatro Ariston è ormai tutto pronto per l'avvio della Kermesse più amata dagli italiani e tra gli eventi più attesi dell'anno. Anche tanti piacentini sono pronti a seguire le cinque serate in cartellone e a tifare i propri beniamini tra i 30 cantanti in gara. Quali potrebbero essere i favoriti? Allora, sicuramente i favoriti tra le donne direi Alessandra Moroso, Anna Lisa e ci aggiungerei anche Fiorella Mannoia. Tra gli uomini direi Diodato e Irama. Secondo me è Mamarrone, secondo me ha del potenziale anche Rose Villan, però non lo so, vediamo. I favoriti secondo me sono Mahmood, Anna Lisa e basta. Il resto secondo me se la contendono un po' tutti. Per quanto riguarda invece le sorprese quali potrebbero essere? Qualcuno parla bene anche dei ricchi e poveri che sembra che abbiano una canzone che svolti un po' dal consueto. Per il resto tra i giovani i bunker 44, ne stanno parlando molto bene e penso che possano essere una piccola mina vagante. Per chi farai il tifo quest'anno? Io faccio il tifo per Anna Lisa. Dopo tanti festival credo che meriti la vittoria. Quest'anno credo che tiferò Alma Marrone perché mi è sempre piaciuta come cantante e secondo me sarà anche poi la preferita dal pubblico, comunque anche al di fuori. Io faccio il tifo per Gioliera. Secondo te che tipo di festival sarà anche a livello di spettacolo? Beh, essendoci che da un po' di anni c'è Fanta Sanremo sarà molto divertente. C'è anche chi di Sanremo non ne vuol sentir parlare. Ecco allora un valido motivo per seguirlo. Perché Sanremo è Sanremo!